Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 8 del libro Shea che vado fino al 28 giugno 2017. Vedrete in questo catalogo tantissime novità e promozioni. Novità per la cura del corpo, novità make up e promozioni, sia delle novità, sia sui set solari, sia sulla cura del viso, davvero tantissime cose e inizieranno anche edizioni limitate, primavera e estate e quindi un catalogo tutto da sfogliare. Allora eccoci qui e possiamo iniziare a sfogliare l'album. Allora vediamo subito la copertina e poi la novità che sono questi flaconi doccia ed è super concentrati perché un flacone vale come quello da 400.000, ha una formula con 97% di ingredienti di origine naturale ed soprattutto aiuta la sostenibilità perché è comunque concentrato e quindi si ha meno plastica. Ed oltretutto aiuta anche il pianeta perché partecipa all'iniziativa e piantiamo per il pianeta. Quindi con l'acquisto di questo gel doccia ed ogni prodotto ed il marchio si impegna a piantare un albero e l'obiettivo eccolo qua è di 100 milioni di alberi piantati entro il 2020. Ora vediamolo giustamente. eccolo qui. Ah sì, se riesco a spostare questo. Ecco, come vi dicevo un gel doccia acquistato, un albero piantato ed oltretutto la nuova capsula di questo prodotto rilascia la giusta quantità per una doccia. Quindi non ci sono sprechi. Iniziamo a vederli perché intanto c'è una promozione che è 1 più 1 uguale 3 perché si acquistano 2 e il terzo è in omaggio. Sono quella la vaniglia bourbon, mango e coriandolo e oliva e petit grain. Sono 2 a prezzo pieno e il terzo con il codice rosso, è quello qua, ed è quell'omaggio. Quindi 2 col codice nero e il terzo col codice rosso per avere quell'omaggio. Direi che è una buona iniziativa oltretutto. Vediamo ora il primo set per il viso che comprende i prodotti della linea Serum Vegetal 2695, il set compattezza che comprende il trattamento rimpolpante giorno, il filo al milato occhi e labbra più la pochette. Altra linea, sempre da Serum Vegetal, quella è il set luminosità, trattamento levigante giorno più roll on occhi illuminante più la pochette 2495, ovviamente anche quello della set lifting, trattamento modellante giorno più contorno occhi effetto lift più la pochette 29 e 95. Rich Creme 29 e 95, il set antirughe nutrizione con la pochette, l'antirughe benefica giorno e l'antirughe benefica occhi. ovviamente anche l'elixir 79, 3495, il set pelle luminosa, trattamento agli attivatori di giovinezza giorno, ovviamente quella per la pelle normale e miste, più il roll on occhi, eccolo qua, più la pochette. Il set anti-age global 3995, il set anti-età globale con la pochette, crema fondamentale giorno e la crema fondamentale occhi. Veniamo ora ai set solari che danno in omaggio la pochette oppure la borsa e ora vi mostro quali. Vediamo se si riesce a vedere, più o meno sì. Allora, il set da una settimana dà in omaggio la trousse, eccola qua. Il set da una settimana sono questi con la protezione media, trattamento anti-età con protezione 30 e il latte idratante 3 in 1, oppure la protezione alta con latte spray protezione 50+, più sempre il latte idratante, oppure la protezione medio-bassa con latte spray protezione 15 e il latte idratante. Oppure, eccola qua, la protezione media con il latte spray protezione 30 e il latte idratante. Invece, andiamo oltre, il set da due settimane al sole, danno in omaggio la borsa spiaggia. E si ha, eccoli qui, con il set ad esempio questo da 2995 che comprende la protezione media con il latte spray protezione 15, latte spray protezione 30 e il latte idratante 3 in 1. Oppure anche questo set che è la protezione alta con il latte spray protezione 30, latte spray protezione 50 e il latte idratante. E con questo set in omaggio in verse la borsa. Allora, vi chiedo scusa, ma nel mentre è partito il telefono, quindi faccio il voice over sopra, se no, non si sente niente. Allora, novità, make up, il mascara nero estremo della sexy pulp. Ha uno scovolino bello grande, prende tutte le ciglia e soprattutto è un nero estremo al carbone vegetale, quindi anche ed è col pigmento di origine vegetale ed è davvero nero, senza parabeni, senza profumi e davvero lo voglio assolutamente provare perché mi può piacere sicuramente. E vi chiedo ancora scusa. Vi mostro ora un'edizione limitata, solo per il periodo estivo. E quelli qui sono i nuovi colori, quindi le matitone glossi, labbra e blush, questo in oro oppure pastello albicocca. Il matitone è molto comodo da applicare, da portarsi anche dietro. E i colori nuovi, eccoli qua, degli smalti pastello perché abbiamo questo azzurro, l'albicocca e il rosa. E sono davvero molto estivi. Edizione limitata sempre anche in questo profumo che è il Chic Beaumien, le toilette, eccolo qua da 100 ml, 19,95, oppure il gel doccia profumato a 2,95 euro ed è un, oltre a essere la collezione estate, è un più fresco e estivo. Vediamo ora l'edizione limitata per quanto riguarda il gel doccia, bagno doccia, eccolo qui, questo ha una profumazione albicocca e rosmarino, sempre edizione limitata mi raccomando. Ecco qui, oltre a tutto abbiamo anche il gel idratante energizzante, che credo che sia perfetto per l'estate perché comunque è più leggero, e l'acqua profumata energizzante. Oppure vediamo ora che il marchio Yves Rocher si impegna nell'Art Act Beautiful, che sono per gli impegni per il pianeta. Quindi primo impegno al 100% dei prodotti attivi e di origine vegetale per un'efficacia ottimale. In secondo impegno i prodotti sono sviluppati secondo un'ottica di eco-sostenibilità. E il terzo sono con eco-concezione, quindi vetro reciclabile e meno plastica. E questo era tutto il catalogo. Allora, l'abbiamo sfogliato tutto, abbiamo visto tutte le promozioni, offerte e wow! Qui sotto nel link del box informazioni c'è sempre il link per contattarmi per informazioni e per gli ordini. E c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo con calma sul vostro computer, smartphone, tablet, quello che avete in multimediale. e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il Magico Atturale Mondo di Brochet.